Uno tsunami si è abbattuto sul Taranto in questa settimana con il ridimensionamento del progetto tecnico dopo le dimissioni del presidente Massimo Giove. Il terremoto delle dimissioni presidenziali ha creato un effetto domino sulla compagine Rosso-Blu, privando la squadra di tasselli fondamentali come Andrea Schenetti, uscito fuori dai giochi prima del deposito del suo contratto, ed Edoardo Pierozzi, tornato alla Fiorentina. Questa è solo l'inizio delle emorragie di calciatori che dovrebbero lasciare a breve la maglia Rosso-Blu. I prossimi dovrebbero essere Simone Calvano, promesso sposo del Monopoli, il difensore Cristian Riggio e i pezzi pregiati Antonio Ferrara e Patrick Enrici. L'attuale obiettivo del club è abbattere il Monte Ingaggi cedendo i pezzi pregiati, mentre ad alcuni calciatori lo stesso presidente Giove avrebbe richiesto il prolungamento del contratto, al momento a resistere sulla panchina ionica il tecnico Ezio Capuano, che nella giornata di venerdì ha scritto un'accorata lettera ai tifosi tarantini, dichiarando di essere ostaggio e vittima della situazione. L'aspetto più preoccupante degli ultimi giorni è il mancato pagamento degli stipendi e dei premi dello scorso giugno ai tesserati, che a breve potrebbero mettere in mora la società. L'omissione dei pagamenti comporterà dei punti di penalizzazione da scontare nel prossimo campionato, con il Taranto che potrebbe partire anche con un pesante meno 6 in classifica. Sullo sfondo restano dei rumors di presunte manifestazioni di interesse, ricordate italo-svizzere e straniere sarebbero almeno due interessate a rilevare il pacchetto di maggioranza del club rosso-blu, oltre alla trattativa che sarebbe in corso con l'ex presidente della Turris, Antonio Colantonio. La prossima settimana potrebbe essere decisiva per saperne di più anche su eventuali trattative in corso. Intanto, nella mattinata di sabato, attraverso un comunicato stampa, il Taranto ha fatto sapere che nella giornata di venerdì il presidente Massimo Giove ha incontrato alcuni esponenti dei gruppi organizzati della tifoseria. Il presidente Giove ha confermato la volontà del proprio totale disimpegno e in tale ottica, si legge nello stesso comunicato, sarà ufficializzata la nomina di un nuovo direttore generale nella giornata di lunedì che provvederà a traghettare il club nel prossimo campionato in attesa di un eventuale cambio societario.